a vedere rientro che modo fare in piedi io eh ma no rientro non si vedrà niente no no non Noi, noi, noi Quasi dritto Quasi dritto Si o faci un palcare libero Si o faci un palcare libero Si non Ata Il mod Si o faci un palcare libero Ii imonte Ii imonte Sì, sì, sì! Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 No, la mani distrutta. Grazie a tutti.